carissime carissimi questo video è solo per rinnovare il suggerimento di usare se possibile quando è possibile il pc i computer windows oppure non importa ok apple va benissimo come avete visto è cambiato il nome del canale non è più tinellidino ma è canal 104 plus se arrivate nella home avete i suggerimenti per voi e potete scorrere magari vi suggerisce youtube stesso quali video sono utili per voi poi si susseguono perché le ho messe io le playlist praticamente non tutte ma quelle che ci stavano anche qua abbiamo visto che c'è perché mentono inconsciamente succubi nasa astrononauti ma attori storia perduta della terra piana sono indispensabili uno di questi video è stato cancellato diciamo cancellato ma attraverso l'indice alfabetico che poi andiamo a vedere potrete vedere anche quello ok prospettiva perché non vedo fino in america anche qua ci sono parecchi video che ti spiegano e vi spiegano i concetti di prospettiva poi curvature d'orizzonte gravità densità cielo stelle aerei pertanto cose per poter approfondire le vostre ricerche ce ne sono tantissime anche questo della geo ingegneria è veramente molto ma molto significativo potere religione e chiesa antartide circunnavigazione e cupola corrioli pendolo e geroscopio vedete che sono parecchi i video ovviamente questa è la home per chi ancora naviga solo attraverso i telefonini è chiaro che posso scegliere anziché la home dove mi trovo adesso posso andare a vedere i video i video vedo sicuramente mi si apre con gli ultimi video pubblicati qui infatti c'è nuovo canal 104 plus youtube dove presento il cambio del nome da tinellidino a canal 104 plus ma è fantastico perché permette di poter scegliere anziché i più recenti i più popolari cioè quelli che sono stati visti più di tutti quanti anche questo per darvi l'opportunità di vedere quali sono i video che guardano di più che sono guardati di più e poi ho un'altra possibilità ancora i meno recenti posso andare a trovare il primo video sette anni fa di quando ho iniziato la ricerca sulla terra piana da qui vado a ritroso anziché i più recenti vado a quelli più vecchi se vogliamo dire così ok poi che cosa abbiamo abbiamo la playlist abbiamo già visto la playlist qui abbiamo scusate abbiamo le playlist abbiamo già visto quelle che ho potuto mettere nella home qui invece vediamo esattamente tutte le playlist suddivise da chi ha prestato la voce come eva suzette maria cristina satta cioè abbiamo la nona elica la storia perduta della terra piana vi ricordo che qua manca un video ma lo potete vedere in altri modi geo ingegneria i video che ho fatto io tanti dicono ah ma tu fai solo le traduzioni 1057 video che vedete qui sono video che ho prodotto io non si tratta di traduzioni ok bene visto questo spesso vi dico anzi sempre vi dico di usare l'indice alfabetico su tutte le pagine sotto tutti i link trovate la pagina dell'indice alfabetico che è questa è una pagina meravigliosa dove al momento ci sono quasi 3000 video quasi 3000 voci che ho fatto io e nelle playlist che avete visto sono tutti video di questo canale non di altri canali ok l'indice alfabetico questo un piccolo traduttore automatico per chi vuole leggere in inglese non assicuro niente perché sapete che le traduzioni automatiche la nostra meravigliosa ea fa quello che vuole ea da raglio asino una cosa che pochi sanno è che qui sopra ci sono tutte le lettere dell'alfabetico pertanto se io sto cercando qualcosa non so perché cerco la voce perché ad esempio che è importante posso cliccare sulla p e arrivo immediatamente alla voce p perché sono arrivato a perché perché spesso non andate a vedere la voce perché perché diffidiamo del globo qualche dovrebbero mentirsi perché gli aerei non volano sopra l'oceano pacifico non sto facendolo perché mi sono preparato sto solo dirvi perché mentono è una cosa che fanno spesso pertanto l'indice alfabetico è importantissimo ho cambiato inquadratura perché vi voglio dire che c'è una cosa che è molto importante sono passato alla per vedere all'inizio della pagina la cosa importante è questa che usando i tasti accoppiati tipo command e f praticamente con command ed f oppure ctrl e ctrl f si apre questa tendina dove se io vado a cliccare come adesso tipo la voce natale mi si aprono le sei voci natale anche se non sono in ordine alfabetico è così sia possa sembrare sia che non possa sembrare natale 2021 poi c'è scritto è nato si dice è nato si dice premiere song di natale e scorrendo con queste freccette posso andare avanti indietro trovare l'origine del natale natale 2021 eccetera ok prima vi dicevo storia perduta storia perduta della terra piano che siamo già arrivati come vi dicevo su youtube il video numero 6 è stato bannato depennato non si sa per chi non vede tutta la playlist sul youtube lo può vedere benissimo cliccando direttamente sul numero 6 e si aprirà storia perduta della terra piana 16 di 7 ok stavo dimenticando un'altra cosa ricordatevi che su tutte le pagine del sito web www.tinelli.eu avete la possibilità di scorrere tutte le pagine a disposizione dai video brighton al teatro lo storico degli spettacoli dove sono stato nel mondo video abbiamo detto la mia radio eccetera ma una cosa che ho dimenticato di dirvi è questa vedete delle iconcine nei video quando vedete questa vuol dire che c'è la presenza della mia persona questo è un video consigliato dal sottoscritto ne abbiamo ancora degli altri vediamo un po quando vedete questo qui è the secrets of the world dal canale the secrets of the world dove presto la voce e poi c'è anche vediamo se lo troviamo perché di questi ce ne sono meno perché abbiamo iniziato da poco ma abbiamo anche canal 104 plus telegram pertanto fate buon uso di indice alfabetico ok detto questo torno sul nuovo canal 104 plus visitatelo scorretelo e se potete non limitatevi ad usare i telefonini siate voi padroni nella scelta di quello che dovete vedere home playlist video meno recenti i più popolari e i più recenti ok grazie fate buon uso dello strumento prezioso che avete a vostra disposizione vi saluto da canal 104 plus dino tinelli